Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema. Vediamo le news di oggi. Arriverà nelle sale il prossimo 21 maggio il film Piacere sono un po' incinta. Il tema del film è uno dei più attuali, l'inseminazione artificiale. Piacere sono un po' incinta fa un po' da sequel a film come The Buster e Baby Mama. Problemi di distribuzione per il nuovo film di Robert Rodriguez, Macete. Dovevano essere sei le case di produzione interessate, tra cui Sony, Warner Bros. e Fox. Ma dall'iniziale entusiasmo qualcosa deve essersi rotto. Sono iniziate le riprese del film La scomparsa di Patò, diretto da Rocco Mortelliti. Il film ambientato in Sicilia è detratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri. La pellicola ha ottenuto i contributi del Ministero per i beni e le attività culturali. Vi lascio con il trailer di oggi. Grazie. Welcome back. I hope Hong Kong wasn't too brutal. Mama says you work much. That's why we don't live with you. Mama's probably right. who are you you're executioner E questo è tutto, vi aspettiamo numerosi con le prossime novità cinematografiche, a presto! Grazie a tutti!